Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati in questa nuova puntata del riassunto della settimana con tutte quante le notizie che sono state postate su Marcosbox da me e dai miei amici Cominciamo con la prima notizia, cominciamo con il parlare di un piccolo post che ho realizzato su un programma chiamato QuietRSS, che cos'è? E' un feed reader leggero, molto potente perché ha diverse funzionalità quali per esempio un browser integrato basato su WebKit per la visualizzazione dei feed che supporta adblock e altre funzionalità per la riproduzione dei video e quant'altro quindi non dovrete aprire poi il collegamento necessariamente con il vostro browser potete fare tutto da lì supporta i proxy, ha i filtri per la ricerca dei feed, suoni di notifica, pop-up e quant'altro naturalmente Open Source è plus di questo software che è multipiattaforma e quindi lo potete installare su diversi sistemi operativi Windows, Mac OS X, OS2, FreeBSD e naturalmente GNU Linux Perché vi ho parlato di questo programma? Perché come ben sapete io nelle mie guide post di installazione su Ubuntu e derivate indico sempre qualche programma per la lettura dei feed offline e con Riferia ci sono spesso problemi con Linux Mint e Ubuntu GNOME in quanto l'icona di Riferia non appare all'interno della tray e bisogna ricorrere a un PPA aggiuntivo e quant'altro propongo quindi dunque a partire da ora proporre sempre poi le guide sono state anche aggiornate con l'aggiunta appunto di questo programma per quanto riguarda desktop alternativi su Ubuntu e derivate questo feed reader che a differenza appunto di Riferia si integra perfettamente sulle derivate di Ubuntu post della settimana interessante è l'ufficializzazione da parte di Samsung del nome del primo smartphone che metterà in commercio equipaggiato con Tizen o Tizen come lo volete chiamare voi che cos'è? è il sistema operativo basato su Linux che Samsung insieme ad Atibart, Quari, Intel, LG e quant'altri sta cercando di sviluppare per diciamo così come piano di riserva come alternativa a quello che è Android nel mondo della telefonia questo nuovo smartphone, questo primo smartphone equipaggiato con Tizen verrà venduto da Samsung si chiama Samsung Z sono dimenticato di dirlo verrà venduto da Samsung in Russia a partire dal terzo trimestre 2014 che cos'è? un Super AMOLED da 4,8 pollici risoluzione HD quindi 1280x720 processore quad core a 2,3 GHz fotocamera posteriore da 8 megapixel fotocamera anteriore da 2,1 megapixel per ragioni di tutti quelli che amano i selfie 2 GB RAM memoria integrata da 16 espandibile con SD fino a 64 batteria da 2600 mAh e sistema operativo Tizen versione 2.2.1 poi vedremo alla fine se verrà rilasciato appunto con questa versione ci saranno degli aggiornamenti scheda tecnica interessante il device Samsung Z è basato ha il supporto tra i reti LTE di categoria 4 ed ha come il suo fratello Galaxy S5 un sensore per impronte digitali che consente lo sblocco delle dita e con le dita e quant'altro quindi tutti i sensori biometrici e cosine che Samsung sta implementando grazie appunto a questa funzionalità del sensore carino bello non vedo l'ora di provare Tizen perché mi sta piacendo poi potremmo dire veramente di avere Linux su un telefonino a differenza di Android Rodrigo poi in settimana ha pubblicato una guida veloce all'aggiornamento e al routing degli LG Nexus 4 e degli LG Nexus 5 nella sua piccola guida che mi raccomando che c'è il discrame perché se seguite quella guida poi cancellerete tutti i quanti dati dal dispositivo quindi dovete effettuare prima il backup quindi ecco perché è stato scritto bello in gigante Rodrigo vi spiegherà quali sono i software necessari da installare su Linux per poter effettuare per poter caricare questo aggiornamento di Android che è stato rilasciato nella settimana Android 4.4.3 che sono state rilasciate che è Factory Image per Nexus 4 e Nexus 5 e appunto seguendo questa guida sarà possibile aggiornare l'ultima versione senza che aspettate gota e nel mio caso il volto ancora non è arrivato ora sto vedendo che praticamente ce la stanno avendo quasi tutti per il Nexus 4 e io sono come al solito fanalino di coda per quanto riguarda gli aggiornamenti per quanto riguarda Google con Android sul telefonino vabbè tralasciando la mia sfiga con gli aggiornamenti di Android altra notizia della settimana sempre riguardante il mondo Tizen è che è stato mostrato finalmente un primo prototipo della Smart TV equipaggiata con Tizen prodotta da Samsung i ragazzi di Tizen Expert hanno realizzato un video di una videoprova diciamo così di questa di questa tv nel video che potete vedere è possibile vedere tutte quante le varie funzionalità che sono state aggiunte a questa Smart TV equipaggiata con Tizen navigazione internet gestione file multimediali cioè una Smart TV fatta come si deve però equipaggiata con con Tizen l'interfaccia devo dire che è molto carina molto pulita sarà poi immagine gli schermi della Samsung che hanno una buona resa cromatica di contraste quindi fanno apparire anche il tutto più bello più sbrigulcicoso e quant'altro settimana il team di Manjaro che non sa stare mai con le mani in mano ha rilasciato il gruppo di Elite Pack 8 il gruppo di Elite Pack 8 che è l'ottavo aggiornamento della versione stabile diciamo così della versione corrente di Manjaro che va ad aggiungere migliori per quanto riguarda i driver AM di Catalyst 4G.4 si 4G.4 aggiornamento di Bluets Wildland è stato deciso di mantenere la versione 1.4.0 per evitare i problemi connessi a Bluetooth con le nuove versioni è stato aggiornato Cinnamon l'ultima versione aggiornato il Natural Language Pack di LibreOffice che non so perché non erano stati aggiornati nel precedente rilascio nel precedente Loop Date Pack è stato introdotto Octopi 0.4 contemporaneamente all'uscita di Loop Date Pack 8 Manjaro ha rilasciato anche la seconda release candidate della versione 0.8.10 che ricordo è basata sulla versione stabile quindi se volete provare questa RG potete fare anche in ambiente di sviluppo non vi succederà nulla perché appunto essendo basato sulla versione stabile non avrete problemi notizione della settimana è stato l'annuncio di Crytek assieme a Chaos Studio che hanno annunciato il nome del sequel di Homefront un famoso FPS sviluppato appunto dalla suddetta casa Software House qual è la novità perché ho pubblicato questa notizia sul blog perché Homefront Revolution questo è il nome in codice della prossima versione avrà supporto nativo anche per Linux quindi potremo giocare sulle nostre Linux machine grazie al CryEngine che è stato annunciato negli scorsi mesi la mia versione quindi preparate le vostre Linux machine per giocare notizia della settimana dal mondo canonical è l'annuncio della data di rilascio ufficiale di Ubuntu 14.10 salvo poi i ripensamenti ma non credo perché dovrebbe essere questa quella finale Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn sarà rilasciata il 23 ottobre 2014 e non più i 16 come precedentemente annunciato nella nella prima roadmap che era stata pubblicata all'inizio subito dopo il rilascio della 14.04 di conseguenza con lo slittamento di una settimana della versione stabile della versione finale sono state fatte dei ritocchi anche per quanto riguarda i rilasci intermedi andatevi a leggere se siete interessati la nuova la nuova roadmap fra l'altro notizia che non ho postata ancora sul blog che penso non posterò comunque è che il team di gubuntu ho fatto sapere che la prossima versione di gubuntu la 14.10 sarà basata sulla versione gtk dei lx lxde quindi non ci sarà l'aggiornamento alla nuova versione di cui vi avevo parlato negli prossimi mesi poi vabbè vedremo i sviluppi speriamo che ci ripensino perché comunque sarebbe carino poter testare il nuovo ambiente dodicesima puntata del marcosbox io che si pronuncia così realizzata da Stefano che cos'è è un contenitore di tutte quante le notizie che non possono essere postate su marcosbox perché non riguardano strettamente il mondo linux e quindi però sono notizie curiose che tutti quanti a voi nerdi in ascolto possono interessare notizie tra le notizie ne pesco alcune ne ve ne leggo la prima è che Fernando Corvado colui che ha introdotto il sistema delle password spiega perché le ha inventate e come il concetto è andato fuori controllo tant'è vero che lui stesso nella vita ne ha avute 150 diverse nel corso di 30 anni di esperienza informatica vi dirò io ne sto avendo anche di più perché su alcuni siti che mi servono per lavoro c'è il fatto che bisogna rinnovare la password ad ogni tanto tempo quindi vi lascio immaginare quante ne sto generando ogni volta altra notizia interessante che interessante nel senso perché non si capisce perché l'hanno fatto i servizi segreti americani hanno postato un bundle line perché sono a ricerca di un software che possa riconoscere i contenuti sarcastici sull'internet chissà che cosa hanno in mente questi questi sempaticoni dei servizi dei servizi dei servizi segreti vabbè poi andatevele a leggere perché c'è anche un post interessante sul sito del gov ingrocio dei dati e che cosa serve andatevele a leggere mi raccomando altro post della settimana non riguardante linux è il post su king office ieri è stata rilasciata la nuova versione di king soft office non so se ve lo ricordate il famoso suite d'ufficio diciamo così per il mondo android ma non solo perché esiste anche poi la versione per windows la versione per linux e quant'altro king soft office si è aggiornata la versione 6 e per l'occasione ha avuto anche un restyling completo sia per quanto riguarda l'interfaccia utente sia per quanto riguarda il nome adesso king soft office si chiamerà vps office vps office potete scaricare sui vostri device android fin da subito totalmente gratuito quindi ha una suite completa che non vi fa cacciare nemmeno un centesimo è un visualizzatore di documenti pdf file di testo microsoft word powerpoint file di excel potete utilizzare aprire documenti sia sul telefonino che sul cloud potete creare documenti e questa è una feature non da poco perché la maggior parte delle suite official nella versione gratuita diciamo così hanno soltanto il visualizzatore non il creatore di documenti quindi adesso potete creare i vostri file quindi molto comodo se siete su un tablet perché su un smartphone chissà questa massima comodità comunque per editing al volo è utile se sui tablet è perfetta questa cosa a differenza appunto di altri suite che non vi consentono editazione offline potete condividere i vostri file via email evernote dlna e quant'altro nella versione 6 come vi dicevo è stato aggiunto il supporto al cloud storage che cos'è questo supporto praticamente vi consente di poi ho aggregato alcuni screenshot di salvare i documenti che voi andate a realizzare direttamente sul vostro account dropbox google drive box one drive oppure webdav ftp praticamente se avete tutti i principali servizi di cloud storage supportati da questo software che dire di più che altre funzionalità di questa suite ah naturalmente è completamente in italiano il supporto ai file è comunque sia per i doc che per i docx xls ppt txd pdf manca il supporto ai file a formato aperto per intenderci quelli presenti su library office e quant'altro però quello diciamo così non è una cosa che hanno tutti anzi quasi nessuno questo supporto speriamo che nella prossima versione venga implementato magari scriverò direttamente agli sviluppatori per avere maggiori informazioni al riguardo possibilità di aggiungere la possibilità di effettuare la stampa wireless la compatibilità è completa con microsoft powerpoint possibilità di salvare i documenti in pdf quindi se voi avete un word o un excel lo potete salvare in pdf direttamente dall'applicazione funzionalità utilissima se volete scaricarla andatevelo a scaricare perché è molto carina poi è piccola di dimensioni quindi un utile strumento che consiglio tutti quanti sui vostri smartphone android per concludere ma non per importanza ma soltanto per ordine temporale questa mattina Andrea Masala ha pubblicato il suo primo post per marcosbox con una guida dal titolo freebsd the netbooks revenge parte 1 che cos'è? è la sua guida su freebsd che appunto ha realizzato a seguito dell'installazione sul suo vecchio netbook asus pc 900 che è stato riportato in vita grazie a freebsd nella guida andrete una guida che sarà poi realizzata in più parti è possibile vedere tutti quanti i vari passaggi dagli installazioni quindi se siete appassionati di sistemi operativi alternativi se siete appassionati di freebsd ma non avete avuto il coraggio di mettere mano al vostro vecchio pc i per provare questa distribuzione questo sistema operativo grazie a Andrea potete potete farlo con questa semplice guida che poi ricordo sarà pubblicata in più parti perché questa è la parte 1 bene con questo concluso spero di non essermi dilungato troppo invece no sono sempre 16 minuti cazzo allora lunga vita e prosperità a tutti quanti ci vediamo la prossima settimana sperando di riuscire a fare qualche video intermezzo settimanale con il solito con qualche approfondimento del caso su qualche argomento particolare di nuovo lunga vita e prosperità a tutti quanti e alla prossima settimana ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti